ha vinto anche i 7 km e mezzo su Paolo Carnevali l'altra sera protagonista anche i giochi del tricolore contro gli slovacchi contro le repubblica cieca, quelli che mettono i timbri, quelli che si chiamano i pennarelli non ci è piaciuto proprio sono venuti qui a donare il nostro tricolore e a casa loro fanno le nostre porcherie ecco come vedete come va Brian, questo è talento ragazzi sono corretti l'elevo di Umberto Guidetti in seconda proiezione c'è anche le lunghe leve, diciamo che il fisico decisamente lo aiuta lui è avuto il fisico prato suono siamo nel corso del primo giro quando passeranno qui davanti a noi siamo a meno 2 che è tanto in quarta posizione, il cuore il termine è sul mandorbolso dell'impianto che si nive la gara giovanile è stato a Ferrari c'era anche l'anno scorso ti ricordi che lo portavo qui all'esordio Porta Martina andiamo a Castelfranco nell'occasione l'avrà già brillante